oi ragazzi benvenuti e benvenuti in questo nuovo video e come potete vedere sono le 5 del mattino perchè è appena uscito cosa di assurdo che ha a che fare con Clash Royale e anche con gli scacchi e voi direte in che senso Clash Royale e scacchi ve lo vado a far vedere subito sono sul twitter della pagina ufficiale di Clash Royale tra l'altro ho il telefono all'11% perchè ho da poco terminato la mia live notturna dove ho scoperto che ci fosse questa cosa assurda e se noi ragazzi andiamo a vedere l'ultimo post che hanno fatto è proprio dell'annuncio della collaborazione di Clash Royale e anche di Clash of Clans con chest.com ovvero il sito degli scacchi hanno anche messo il link direttamente in bio ovviamente cliccare da qua per andare a vedere di che cosa si tratta ed ecco qua ragazzi il sito del mashup fra Clash Royale, Clash of Clans e gli scacchi noi in particolare è il quiz puzzle per l'esattezza di Clash Royale con appunto sempre gli scacchi che ci darà la possibilità di riscattare 1.650.000 ebbene si avete seguito bene il tutto in 3 minuti se bisogna completare i puzzle che comunque sono abbastanza facili per chi sa un minimo di scacchi per chi non sa un minimo di scacchi come me e adesso vedrò come fare non ne ho la minima idea però andiamo a vedere il puzzle ok ragazzi sono nel gioco in questione dove devo riscattare come vedete in alto i 250.000 di oro come prima ricompensa se completo il primo puzzle poi posso riscattare i 500.000 di oro e se completo anche quel puzzle poi avrò il terzo puzzle da 1.000.000 di oro e si ragazzi non vi sto prendendo in giro avete visto ho cliccato direttamente il link rilassato nella video della pagina ufficiale di Clash Royale quindi è tutto vero 1.750.000 di oro gratis penso sia l'iniziativa più generosa che Clash Royale abbia mai fatto sicuramente negli ultimi anni specialmente dopo che hanno aggiunto il livello 15 ma non sono qua per parlare di questo ma bensì per completare questo puzzle ed ottenere tutto questo oro allora non so letteralmente dove mettere mano allora ho preso questa e l'ha messa qui buono buono ok cos'è che ha fatto poi? il boss il grande boss ok allora poi ragazzi prendo il cavallo lo vado a mettere in teoria qua per completare il puzzle let's go sono troppo forte 250.000 di oro ragazzi ok clicchiamo su Clash Royale porterà direttamente in game ecco che siamo di nuovo in gioco e vediamo un po' che cosa accade ragazzi vuoi ritirare il tuo premio ora? assolutamente sì voucher perfetto è chiaramente un voucher ufficiale di Clash Royale come potete vedere clicchiamo su ok e ci aggiunge 250.000 di oro non è finita qua adesso dobbiamo completare il puzzle da 500.000 di oro ok allora ragazzi per andare avanti dobbiamo fare dobbiamo cliccare su claim e ci darà il prossimo sì l'ho già riscattato ok l'ho già riscattato quindi non so esattamente come dobbiamo andare avanti allora come faccio ad andare avanti? ah ok 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 ho capito ho capito altro puzzle non è uguale a quello di boss non è uguale a quello di boss oh raga ho fatto roba a caso e ho completato il primo puzzle è da 3 minuti che sto cliccando roba a caso ho completato il primo pezzo devo completare la seconda parte ok 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 raga continuo a cliccare roba a caso e ci vediamo quando sono riuscito a completare il puzzle prometto che cercherò almeno di venire a conoscenza delle base degli scacchi oh ok 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 ho continuato a cliccare roba a caso ma intanto 500.000 di oro quindi clicchiamo ancora clash royale raga ok questo il primo l'ho copiato da boss il secondo l'ho fatto a caso il terzo da un milione di oro non so come cavolo riuscirò a farlo ma intanto mi gusto i 500.000 di oro quindi stesso procedimento di prima riscattiamo let's go 500.000 di oro andiamo a 750.000 è un nuovo account questo ragazzi e l'ho creato apposta per fare il video così da rendere ancora di più l'idea visto che penso sia anche un'iniziativa per far conoscere il gioco a nuove persone per promuoverlo la collaborazione appunto con gli scacchi e le ricompense ottenibili siano anche per questo a magari nuove generazioni comunque sì lo so che è uno dei giochi mobile più famosi di sempre però ci sarà qualcuno che non lo conosce o no secondo me sì o comunque qualcuno che ha voglia di iniziare a giocare soprattutto quindi 1.750.000 di oro direi che è un bell'input è una bella spinta per tornare a giocare ti puoi maxare 17 carte con 1.700.000 di oro ok ragazzi torniamo sul sito dobbiamo chiaramente cliccare su solve even more puzzles to get lots more gold let's go e abbiamo il puzzle del milione di oro andiamo a controllare se boss lo aveva uguale prima cosa perché se boss lo aveva uguale lo copio direttamente da lui raga boss ce l'aveva uguale goto ok copio lui ok ha sbagliato una mossa lui ha sbagliato ancora ma sei proprio scarso boss lo facevo da solo a sto punto ragazzi ho riuscito a capire che cazzo ha fatto ha preso questo e l'ha messo qua bene prima parte completata torno a copiare manco a scuola allora penso che abbia preso questo no ha preso questo e l'ha messo qua no l'ha messo qui l'ha messo qui tutto cazzo l'ha messo da qualche parte lo deve aver messo eh ok 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 ragazzi allora io l'ho copiato da boss cioè allora il primo l'ho copiato da boss il secondo l'ho fatto a caso e il terzo l'ho copiato da boss facendo un po' di cose a caso sono riuscito a risolverlo quindi penso possiate farlo anche voi diciamo che la registrazione sta a 13 minuti questo video durerà 6 e no 5 minuti quindi taglierò un po' di fail però ce l'ho fatta ce l'ho fatta comunque è poco tempo no quindi let's go play clash royale ci porta direttamente in game aspettiamo che si carichi oh ah no aspettate ragazzi ok forse si era mancato non lo so comunque per sicurezza clicchiamo su claim claim significa riscatta ok a posto ok 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 riscattiamo ciao cazzo sta succedendo ma che cazzo dici ma perché ok ragazzi è passata qualche ora da quando mi avete visto completare tutti e tre i puzzle però c'è stato quell'inghippo sull'ultimo puzzle che non mi ha assegnato il milione di oro ho una risposta ho per voi una risposta e vi dico che sono delle ottime notizie sono qua su twitter sul profilo di druvian che è uno dei community manager internazionali e ha di recente messo un post che va a rispondere a tutti i nostri dubbi 48 minuti fa ha postato quanto segue avevamo un sito web con delle ricompense enormi che però è andato live troppo presto e quindi diciamo siamo tornati sui nostri passi questo dovrebbe essere il significato cosa vuole dire con questo ve lo vado a tradurre anche se la traduzione non è che sia molto affidabile però bene o male che cosa è successo è successo che il sito web ha rilasciato le ricompense troppo presto e quindi diciamo che l'hanno dovuto un attimo mettere in pausa fra virgolette questo è quello che ho capito la buona notizia però è che comunque i premi rimarranno gli stessi ovvero il 1.750.000 di oro soltanto che queste ricompense verranno messe nuovamente disponibili fra qualche giorno e quindi quando vedete questo video in teoria completando i puzzle non vi verranno assegnate le ricompense però comunque il funzionamento sarà lo stesso ci saranno da completare questi puzzle per ottenere il 1.750.000 di oro io vi terrò aggiornati qua nella sezione commenti e anche su instagram o magari con un post nella sezione community proprio qua su youtube quindi attivate la campanella iscrivetevi e passate da instagram però ragazzi mettete un bel like al video così ve lo salvate perché nei prossimi giorni potrete ottenere il vostro 1.750.000 di oro totalmente gratuito in due semplici minuti come ho fatto io completando i puzzle quindi direi niente male ribadisco questa è veramente un'ottima iniziativa da parte di clash royale io spero che questo video diverso dal solito vi sia piaciuto e che vi sarà anche di aiuto noi ci vediamo presto con un nuovo video ciao 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 ciao